La proposta di istituire la settimana corta nelle scuole terramane avanzata in primis dal sindaco di Teramo Marizio Brucchi e successivamente condivisa dal presidente della provincia di Sabatino, dopo le iniziali ottimistiche premesse nell'attuazione, sarena l'ultimo tavolo. Ieri infatti dal tavolo al quale sono tornati a sedersi amministrazione e dirigenti degli istituti scolastici comprensivi è emerso che a decidere saranno i singoli istituti. Ogni istituto, pertanto, continuerà, come ha sempre fatto nel segno dell'autonomia, a scegliere liberamente se adottare o meno la settimana corta e ad esprimersi potranno essere solo consigli di istituto e collegi dei docenti, perché questi sono gli unici organismi deputati a farlo e non l'amministrazione, come in modo confuso, a qualcuno non sembrava fosse ben chiaro. E' così che all'istituto comprensivo di San Nicolò, ad esempio, il consiglio di istituto si è già riunito e ha respinto l'ipotesi mentre, in linea di massima, potrebbero esprimersi favorevolmente i consigli in programma entro fine mese in due istituti, al San Giuseppe San Giorgio e alle Zippilli Noelucidi. E sempre in tema di scuola, in difesa di quella pubblica, anche i docenti teramani, sull'esempio di quanto è stato organizzato in molte città, hanno voluto far sentire ieri la loro voce, manifestando dalle 18 alle 20 in Largo San Matteo. Una manifestazione, hanno spiegato i docenti del coordinamento sciopero 5 maggio, dimostrativa e divulgativa della contrarietà al disegno di legge 2.994 sulla riforma della scuola, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. Una manifestazione che va a sommarsi alle centinaia di mozioni di collegi docenti che si esprimono in maniera negativa al decreto legge.